Ciao da Avsim! Ci sono dei punti di contatto, ci sono delle analogie tra Manchester City, Atletico Madrid e Juventus-Viglia Real. Sì, quella che la Juventus ha perso 3-0 alla partita del 16 marzo, sicuramente non il risultato. Allora, come mi viene in mente di mettere in parallelo e di fare un raffronto tra queste due partite? Mi viene in mente semplicemente per analizzare un po' meglio Manchester City, Atletico Madrid, che ieri ho guardato in diretta, in live reaction, ed è stato molto divertente. Potete recuperare l'intero video o magari aspettare la live reaction di stasera, dove giocheranno Chelsea, Real Madrid, ma appunto anche e purtroppo. Villareal, Bayern Monaco in diretta, con la chat aperta agli iscritti e anche la chat vocale per gli abbonati tramite Discord. E quindi parlarne un po' più approfonditamente per spiegare che cosa realmente abbiamo visto, soprattutto da parte del Manchester City, ma anche da parte dell'Atletico Madrid. E chiarire un pochino i concetti di dominio in campo e di catenaccio, contropiede e fase difensiva. E' qui che dobbiamo andare a chiarire alcuni concetti. Poi, ovviamente, io non sono un esperto di tattica, non sono un esperto di calcio, non ho la verità in tasca, non ne capisco più di altri. Però, obiettivamente, ho letto anche dei giudizi, delle opinioni che sono abbastanza lontane dalla realtà di quello che abbiamo visto nella partita di ieri. Giudizi un pochino superficiali. Si ragiona troppo spesso per etichette della serie Simeone fa il calcio di Allegri. Ci sono tante differenze tra Atletico Madrid e Juventus. O, appunto, l'Atletico Madrid ha fatto difese e contropiede, rinunciando a giocare e quindi ha giocato male. Attenzione, anche qui dobbiamo capirci, perché ci sono tante cose, anche qui tanti dettagli. Semplicemente per cercare di fornire un servizio, di fornire dei punti di vista, una riflessione e quindi aprire un po' il dibattito, che naturalmente potete andare a sviluppare nei commenti qui sotto. Cercando di allontanare il più possibile, ripeto, le etichette e i preconcetti, i pregiudizi. Perché non esiste che Guardiola fa bel gioco e Simeone gioca male, né che la Juventus contro il Villareal ha fatto bel gioco, però ha perso, come a dire a giocare bene si perde, o che solitamente la Juve gioca male come gioca l'Atletico Madrid. Ci sono, ripeto, veramente tantissime differenze. Allora andiamo a vederle. Prima di alcune statistiche e anche alcune grafiche, che possono più che altro dare un riscontro un pochino più oggettivo e dare anche un'immagine un pochino più chiara, ma naturalmente non possiamo confrontare mele e pere. Cioè, sono due partite diverse, come sono sempre diverse due partite tra di loro, sempre. Anche giocate tra le due stesse squadre, fosse anche un'andata e un ritorno. Cambia il campo, ci sono condizionamenti diversi, mentali, perché si è già giocata l'andata, o si deve ancora giocare il ritorno. Insomma, una miriade di fattori e ancora di più se magari cambiano le stagioni. Figuriamoci due partite giocate da quattro squadre diverse, che non si incontrano poi le une con le altre, quindi non si scambiano, nel senso che la Juve purtroppo quest'anno non ha giocato, non giocherà contro il Manchester City, perché avrebbe significato andare ai quarti o magari anche in semifinale o magari anche in finale. Eppure si legge, Allegri contro questo Manchester City avrebbe vinto. Ma, per esempio, affermazioni di questo tipo, sulla base di che cosa? Ora, a me non interessa qui dire Allegri avrebbe perso. Non ne ho la minima idea di cosa avrebbe fatto Allegri, ma la Juve di Allegri contro il Manchester City. Purtroppo dobbiamo essere tutti rattristati del fatto che non lo sapremo mai, perché la Juve non giocherà mai contro il Manchester City in questa stagione. Questo è l'unico punto. Oppure l'Atletico Madrid ha perso, però, eccetera, come a giustificare magari un certo tipo di proposta. Allora, andiamola a vedere. Partiamo dall'organizzazione offensiva del Manchester City e poi parliamo anche dell'organizzazione difensiva dell'Atletico Madrid, perché c'è anche quello. E anche con una premessa, molti hanno parlato di partita noiosa. Ci sta. Primo tempo noioso. Va bene, dipende anche che cosa ci si aspetta dalle partite. Personalmente mi sono divertito tantissimo. Per me è stata una partita meravigliosa, perché ho dato l'accento più che altro sull'aspetto tattico. Quindi ho guardato la partita con un piglio tattico, con una prospettiva da quel punto di vista, non aspettandomi necessariamente 50 occasioni da gol e appunto tanti gol, perché tante occasioni da gol significa tanti errori da parte della squadra che difende, ma anche dalla parte della squadra che attacca, se poi, dopo che attacca, subisce un'occasione da gol. È stata una partita bloccata perché, soprattutto nel primo tempo, le due squadre si sono annullate essendo perfette. Cioè, sono state perfette le due squadre, con piccoli difetti, ovviamente da parte di entrambe, quindi perfette no al 100%, ma quasi perfette. Hanno sfiorato la perfezione. E allora, vediamo appunto l'organizzazione offensiva del Manchester City. Come avete potuto vedere, come abbiamo potuto vedere, soprattutto nel primo tempo, la caratteristica principale del Manchester City nello sviluppare il gioco è stata quella di affidarsi a questi continui triangoli mobili. Ogni giocatore che teneva palla aveva sempre due compagni vicini a costituire, a creare un triangolo. Appena il pallone passava dai piedi di quel giocatore ad un altro giocatore, e quell'altro giocatore, se non poteva o doveva restare nel triangolo precedente, costituito con gli stessi tre giocatori, si affacciava ad un nuovo triangolo che veniva costituito o con l'avanzamento di questo portatore o con l'abbassamento e il movimento di un altro giocatore senza palla. Erano continui triangoli. Mi viene da fare una battuta. Sembravano le strisce nere della maglia della Juventus 22-23, come avete visto, tutte fatte a triangoli. Ecco, quella è un po' la raffigurazione. Io ho voluto raffigurare sulla maglia lo schema tattico del Manchester City, per dire una cosa simpatica. E su queste triangolazioni, ovviamente, su questi posizionamenti a triangoli, si giocava con passaggi corti. Corti. Il passaggio corto è l'essenza del calcio. Perché se tu giochi corto, giochi preciso, e puoi anche giocare veloce. È molto più facile fare un passaggio preciso e veloce, se è corto, invece che farlo lungo. Il passaggio lungo è lento, può essere impreciso ed è prevedibile, perché fin tanto che il pallone arriva, alto o basso che sia, c'è grande possibilità e probabilità per gli avversari di posizionarsi e di intervenire. Invece più sei raggruppato, organizzato, organizzato tatticamente, più il pallone si muove in maniera fluida, veloce e quindi precisa. Infatti la precisione nei passaggi del City è stata elevatissima, 90% alla fine della partita. I movimenti poi per attaccare sono stati sviluppati soprattutto nei mezzi spazi, con una tendenza poi ad andare un po' più sugli esterni, quando l'organizzazione difensiva dell'Atletico Madrid ha portato il City a doversi un pochino allargare. Dopo vediamo appunto l'organizzazione difensiva. Ma questo gioco sui mezzi spazi ha avuto sbocchi principalmente con cross, tanti per esempio quelli di Marez e di Cancelo, Cancelo ha fatto una partita pazzesca, con poi rare percussioni centrali che sono state più frequenti nel secondo tempo e con una percussione centrale è arrivato il gol di De Bruyne con una grandissima giocata di Foden appena entrato e tanti inserimenti in area. De Bruyne, Bernardo, Gundogan, questi tagli che però non sono stati efficaci nel primo tempo. E allora gli errori tecnici del Manchester City si sono visti, sono stati errori tecnici, ma errori tecnici in un contesto di tecnica elevatissima, in un contesto di elevatissima precisione e di giocate molto difficili. Quindi ci sta con un coefficiente di difficoltà così alto sbagliare qualche cross, non riuscire a imbucare bene, oltre che, quindi un pochino di precisione nell'ultimo passaggio e direi anche l'intesa poi su alcuni movimenti perché quando alcuni giocatori del City si inserivano in area non sempre si riusciva a dettare il passaggio. Contro questo c'è stata una grandissima organizzazione difensiva dell'Atletico Madrid. Quindi non c'è stata difesa e contropiede, non c'è stato catenaccio, punto e basta. L'Atletico Madrid si è posizionato uomo su uomo anche se in maniera passiva, anche se in maniera statica, nel senso che andavano a coprire gli spazi, andavano ad impedire ai giocatori del Manchester City di avanzare più di tanto. E quindi a un certo punto il City si scontrava contro un muro costituito da una linea a 4, in alcuni momenti a 5, dell'Atleti che però era sulla linea dell'area di rigore, non era asserraiata dentro l'area. Tendenzialmente l'Atleti ha cercato di posizionarsi sulla linea dell'area di rigore, rafforzata da una linea di due elementi in mediana, in modo tale che il City poteva solo girare largo, poteva andare sull'esterno, sul mezzo esterno, cioè il mezzo spazio, oppure far circolare centralmente però un po' più staccato rispetto alla tre quarti difensiva dell'Atletico, manovrando anche con i difensori, tanti tocchi di palla da parte di Ache, da parte di Laporte, e quindi il lavoro anche fatto dei difensori centrali in impostazione, con tra l'altro un'altra cosa fondamentale dell'organizzazione difensiva, che però riguarda il Manchester City, ci arriviamo dopo, perché altri dettagli dell'organizzazione difensiva dell'Atletico, appunto l'occupazione della linea dell'area della mediana, la copertura proprio degli spazi, e diciamo stare anche uomo su uomo, anche se in maniera piuttosto passiva, andando però di tanto in tanto all'intercetto, facendo slittare poi a volte il gioco del City più verso l'esterno, chiudendo meglio i mezzi spazi, chiudendo sicuramente centralmente, e poi andare a coprire in area sui cross, e quello, al di là dell'imprecisione tecnica un pochino del Manchester City, l'hanno fatto bene. Ma se il difetto del Manchester City è stato quello che vi ho detto, di non riuscire ad essere preciso fino in fonte, di concludere, il difetto dell'Atletico Madrid è stato quello di non riuscire a ripartire. Ogni volta che l'Atletico, soprattutto nel primo tempo, ha intercettato il pallone e ha provato a ripartire, lo faceva con un uomo, Joao Felix, oppure due, ma troppo lontani. Cioè l'Atletico non accompagnava, non saliva come squadra per intero, per andare appunto a sostenere questa ripartenza. Che cosa ha avuto questo come conseguenza? Il fatto che il pallone veniva sistematicamente perso. è che non solo nel primo tempo, che già non era mai successo nella storia, ma in tutta la partita, per la prima volta sotto la gestione Simeone, l'Atletico Madrid ha fatto zero tiri nello specchio, e anche zero tiri totali. Zero, zero, zero. Mai successo all'Atletico Madrid sotto la gestione Simeone. Questo significa che, per quanto l'Atletico si sia impegnato tantissimo nella fase difensiva, e l'abbia fatto in maniera efficace, perché ha perso uno a zero e nel primo tempo non ha subito, non è riuscito assolutamente ad attaccare e a creare quanto comunque riesce a fare solitamente, pur con questo atteggiamento. E questo perché, e tra l'altro, mi sembra di aver letto che è la quarta volta nella storia delle eliminazioni dirette in Champions League che una squadra fa zero tiri nello specchio, e tre delle quattro volte, compreso ieri, sono successe contro Guardiola. Una roba del genere. Cioè, capite che cosa significa quando parliamo di organizzazione offensiva e di tattica del Manchester City? Non è la bravura dei singoli. La bravura dei singoli c'è, ma è stata creata all'interno di un sistema. Non è soltanto la bravura tecnica. Cancelo l'abbiamo avuto anche noi alla Juve, l'ha avuto anche l'Inter, l'abbiamo avuto in Italia, giocava nel Valencia. È tutta un'altra cosa adesso al Manchester City. Ma possiamo parlare anche di Marez, possiamo parlare anche di quanto è cresciuto lo stesso De Bruyne con Guardiola. Forte era forte pure prima, ma se fosse stato fortissimo, sarebbe esploso a questi livelli anche prima di essere allenato da Guardiola. E invece prima di essere allenato da Guardiola non era così forte, senza parlare di Foden. Insomma, tante qualità che emergono in questi giocatori, ma che sono innanzitutto messi a disposizione della tattica. E la tattica è messa a disposizione delle loro capacità tecniche. Altrimenti questi numeri non si vedrebbero. E, dicevo, gli errori dell'Atletico Madrid, ma la cosa fondamentale che bisogna sottolineare è che comunque, al di là degli errori nel non accompagnare, nel non accorciare da parte dell'Atletico Madrid, che nel secondo tempo una ripartenza buona l'hanno pure fatta. Una ripartenza buona l'hanno fatta, e forse anche comunque si sono proposti un pochino meglio in avanti. Il Manchester City andava a creare una gabbia. Una gabbia di almeno tre uomini attorno al portatore. Quindi non c'era neanche bisogno di farlo l'intercetto. Per questo vediamo che nella partita l'Atletico ha fatto 14 intercetti e il City solo 8. Beh, questo ovviamente è una diretta conseguenza anche del possesso. Possesso del City 71, possesso dell'Atletico 29, quindi è chiaro che con tutto quel possesso che viene a volte definito sterile non devi intercettare perché non devi recuperare il pallone. Ma il City recupera il pallone con una gabbia, letteralmente una gabbia attorno agli avversari. E questo è qualcosa di fantastico. Nel secondo tempo, dicevo, l'Atletico Madrid è più alto e più propositivo con appunto questa griglia di pressing, di andare a chiudere una gabbia, anzi non una griglia, del Manchester City per recuperare praticamente il pallone anche sulle ripartenze. il Manchester City ha trovato più spazi per gli inserimenti, ha anche migliorato la qualità tecnica, sicuramente sono stati importanti i cambi, non solo Foden per l'assist e per le giocate pazzesche, ma anche Grealish che rispetto a Sterling sullo stesso lato è venuto un po' più giù, si è un po' più abbassato per stanare un pochino gli avversari, per farli venire un po' più fuori, creando poi spazi alle spalle. Invece, deludenti i cambi di Simeone che hanno aggiunto sostanzialmente più fallosità e ben poca efficacia nel recupero del pallone che forse era quello che serviva recuperare un po' più palloni per provare anche a giocarne un po' di più e quindi andare ad attaccare. Se è risolta con l'1-0 che uno dice è cortomuso ma che cosa non c'entra niente non c'entra niente il cortomuso se basta che andiamo a vedere anche i tiri i tiri del City sono stati 15-0 dell'Atletico sono due nello specchio il City però sei tiri respinti quindi un totale di otto tiri potenziali nello specchio a ragione del fatto che prendiamo il tiro per esempio di De Bruyne dopo l'1-0 che è stato respinto da un difensore c'era sulla linea anche il portiere ma comunque era una grande occasione a causa del fatto che l'Atletico si è chiuso nelle occasioni da gol veramente asserraiato poi quando difendeva non stava tutto quanto chiuso nell'area di rigore ma stava un pochino più alto ora vi mostro infatti e poi veniamo anche al raffronto con l'Iventus Villareal veloce vi mostro infatti la distribuzione dei tocchi di palla fonte who scored del Manchester City e di contro la distribuzione dei tocchi di palla in campo dell'Atletico Madrid quindi vedete che si è giocata a una sola porta non è solo il possesso palla sono stati 855 tocchi il City 434 l'Atletico Madrid con 695 passaggi totali a 297 quindi il City più del doppio con una precisione 90 City 72 Atletico e poi va detto che l'Atletico non ha vinto da nessun punto di vista neanche sull'aggressività perché i contrasti sono stati 13 totali il City e 29 l'Atletico però il tasso di riuscita è stato 62 il 62% dei contrasti tentati dal City ha portato ad un recupero del pallone mentre il 48% per quanto riguarda l'Atletico ovviamente le spazzate sono state 23 l'Atletico 6 soltanto il Manchester City ma neanche sui duelli aerei per dire l'Atletico ha prevalso 14 vinti contro 7 che fanno 67 a 33 in percentuale e expected goals fonte XG philosophy 0,94 cioè 1 quindi ampiamente legittimato e meritato il goal a 0,07 l'Atletico con neanche un tiro in effetti quindi un XG praticamente nullo e quindi vediamo anche le hitmaps delle due squadre e poi passiamo ad un rapido raffronto con Juventus-Viglia-Real 0-3 anche dalle hitmaps che cosa vedete che c'è stata praticamente una sola squadra in campo da un punto di vista offensivo ma l'Atletico ha ripeto difeso benissimo difeso benissimo che non è assolutamente facile e non ci si deve aspettare dal City che si vinca sempre 3-0 5-0 cioè questo 1-0 è un risultato pazzesco perché riuscire a fare un goal intanto a questo Atletico è difficilissimo e arrivarci tra l'altro tardi nei minuti e significa anche tanta mentalità tanta concentrazione resistenza allo stress e poi il City ha continuato ad attaccare non erano stanchi mentalmente dopo tutta la partita faticosa che avevano dovuto fare non tanto magari faticosa a livello fisico perché hanno fatto correre il pallone ma sicuramente faticosa ed estenuante a livello mentale così come snervante ed estenuante è stata la fase difensiva dell'Atletico indubbiamente indubbiamente con una falla che si è creata proprio in una percussione centrale ma che prima o poi poteva capitare perché a difendersi così tanto e a non attaccare al massimo finisci 0-0 oppure vinci 0-1 ma te lo devono regalare il goal e non capita sempre e se aspetti che le cose capitino devi essere solo fortunato e se sei fortunato non sei bravo perché se sei fortunato sei fortunato e quindi veniamo Juventus Villareal dove non si può assolutamente parlare di dominio della Juventus ok né si può dire che il Villareal per esempio ha giocato come l'Atletico Madrid al massimo si può dire il Villareal ha giocato come solitamente gioca la Juve per certi versi sebbene la Juve 3-0 con una partita difensiva non l'ha mai fatto quest'anno non ci è mai riuscita però appunto una netta differenza con l'Atletico e se il City è riuscito a vincere 1-0 contro questo atletico ermetico pensate quanto avrebbe vinto o vincerebbe il Manchester City contro il Villareal che come fase difensiva è stato molto più difettoso molto peggiore rispetto all'Atletico Madrid e quindi la differenza che c'è attualmente sebbene la proprietà transitiva del calcio non esista tra Manchester City e Juventus perché il Manchester City contro questo atletico ha vinto 1-0 la Juventus contro questo Villareal ha perso 3-0 contando appunto il risultato come in qualche modo esito di una prestazione la Juventus vinse il possesso ha vinto il possesso quel 16 marzo ma 58-42 non 71-29 i tocchi sono stati di più della Juve ma 769-597 non 855-434 i passaggi sono stati di più 604-442 ma non 695-297 la precisione la precisione è stata del 90% come quella del Manchester City ma su un numero di passaggi inferiore ma quella del Villareal non è stata 72 come l'atletico che non è una squadra scarsa tecnicamente bensì 85 per un Villareal che è sicuramente una squadra inferiore all'atletico giocano anche lo stesso campionato e come vedete la classifica parla chiaro la Juve fece tanti tiri 14-15 il City di cui 5 nello specchio il City solo 2 però il Villareal ha fatto 8 tiri di cui 3 nello specchio 3 nello specchio corrispondendo ai 3 gol compresi i rigori ma 8 tiri totali 8 tiri totali esatto quindi sicuramente con una fase offensiva ed infatti il non penalty expected goals sempre di XG philosophy vede 1,2 per la Juve 2,3 per l'XG generale per il Villareal che diventa 1,1 togliendo i rigori è ok ma comunque 1,2 a 1,1 cioè il Villareal una proposta offensiva l'aveva avuta una qualità di gioco un attacco l'aveva formulato contando anche contrasti 25 a 23 quindi più contrasti tentati dalla Juve con un tasso di riuscita più alto rispetto a quello del Manchester City 72% la Juve 70% il Villareal naturalmente parliamo di una percentuale sul numero totale dei propri contrasti quindi perciò 72 più 70 non fa 100 ma fa di più 10 intercetti la Juve 5 il Villareal quindi la Juve fece anche più intercetti proprio a dimostrare che fu un possesso palla ma non un dominio 7 spazzate a 23 numero molto simile a quello che si è visto ieri in City Atletico e 9 duelle aerei vinti a testa con un 50 e 50 e a questo punto vediamo la distribuzione dei tocchi di palla della Juventus e la distribuzione dei tocchi di palla del Villareal nella stessa partita come vedete la differenza rispetto a City Atletico è netta quindi non possiamo parlare di una Juve dominante che però poi ha perso il dominio della Juve in quella partita non c'è stato c'è stata una preponderanza della Juventus nel possesso palla nell'approccio offensivo nel creare le occasioni da gol ma avete visto in quella Juve l'organizzazione offensiva che vi ho descritto prima da parte del Manchester City avete visto in quel Villareal l'organizzazione difensiva che vi ho descritto prima da parte dell'Atletico Madrid che appunto Villareal che tra l'altro ha giocato molto di più anche nella nostra metà campo e nel terzo centrale rispetto a quanto non abbia fatto ieri l'Atletico contro il City cosa confermata anche dalle hitmaps ultima grafica che dice che magari la Juve può aver avuto una hitmap simile anche se con un baricentro chiaramente arretrato più arretrato rispetto a quella del Manchester City ieri ma dall'altra parte non possiamo parlare di una hitmap del Villareal simile a quella dell'Atletico Madrid quindi non c'è solo la netta differenza del risultato c'è anche una netta differenza di valori di qualità di tattica di tecnica di contenuti quindi cerchiamo di evitare le semplificazioni che sono deleterie il Manchester City non fa bel gioco e poi magari perde la Juve non ha dominato contro il Villareal ha dominato rispetto al Villareal ma in senso assoluto parlando di calcio si può fare molto di più molto 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 di più si potrebbe fare voi dite ma i giocatori del City sono più forti ma io credo che comunque anche questi giocatori della Juve che per me scarsi non sono potrebbero fare di più se fossero organizzati allenati preparati meglio diversamente ne si può dire che l'Atletico Madrid abbia giocato male l'Atletico Madrid ha giocato benissimo a livello difensivo poi ha sbagliato probabilmente nell'approccio non è stato assolutamente capace di produrre nulla in attacco ma c'è stata anche la bravura difensiva del City però cerchiamo di non essere manichei cerchiamo di non affibbiare troppe etichette guardiamo le partite cerchiamo di capirle cerchiamo anche di approfondirle e poi esprimiamo i giudizi naturalmente nessuno può impedire ed è anche bello che sia così ed è anche giusto che sia così a chi ha studiato poco ha visto poco ha capito poco di esprimersi tutti sono liberi di esprimersi però poi bisognerebbe cercare di migliorare il proprio punto di vista arricchendosi con altri punti di vista e con un approfondimento che in questo caso ho cercato di offrirvi grazie per la vostra attenzione non intendevo fare un video così lungo però intanto mi sono fatto prendere dalla bellezza del calcio e poi c'erano tante cose da dire e quindi grazie davvero e ditemi la vostra nei commenti su City Atletico se l'avete vista è quello che pensate e sul raffronto con Juventus e Atletico Madrid Juventus sì Atletico Madrid considerando Juventus-Viglia Real per quanto riguarda queste due partite e anche un po' in generale mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti condividete questo video con chi è interessato ad un approfondimento del genere e abbonatevi a questo canale vi bastano 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui i vostri commenti in evidenza l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord compresa la chat dedicata alla tattica e la programmazione in anteprima con orari e argomenti dei nuovi video in uscita ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti